ciao a tutti i lettori di guida finestra in questa rubrica questo mese parliamo delle barriere architettoniche di come realizzare una casa senza barriere architettoniche ma che sia anche sicura per i loro abitanti e con un design abbastanza moderno e total black accattivante le barriere architettoniche sono state sulla bocca di tutti noi seramentisti soprattutto nella seconda metà del 2023 poi quel 29 dicembre ha interrotto quella tra virgolette pacchia ecco in questo articolo non voglio entrare nel merito di quello che è successo a dicembre ognuno avrà le proprie idee io le mie ma voglio parlarvi di una realizzazione che abbiamo fatto a rovigo siamo nel campo di una nuova costruzione di una casa unifamiliare con un design moderno e già in fase di progettazione il committente che era tra l'altro un attivo lettore di blog bisacchi punto it aveva voluto tutte le porte finestre scorrevoli perché aveva capito che lo scorrevole era una tipologia di aperture che avrebbe agevolato l'eliminazione delle barriere architettoniche che era una prego una delle prerogative per questa abitazione poi era importante anche il discorso della sicurezza perché non erano presenti dei sistemi oscuranti ed era importante anche l'aspetto del design quindi colore nero i profili sottili e di vetri extra chiari apro una parentesi col discorso della mancanza delle schermature solari perché bisogna dire che si possono eliminare a patto che ci siano dei presupposti come ad esempio il giusto orientamento del fabbricato o ci siano delle schermature naturali come magari della vegetazione degli alberi o degli altri fabbricati oppure ci siano delle superfici aggettanti che possono fare ombra ai serramenti esposti a sud a ovest o ad est oppure ancora se in quelle vetrate che non ci sono queste questa possibilità si potrebbe optare per i dei vetri selettivi tutti questi casi è possibile lavorare anche con dei serramenti senza oscuramento che anzi è qualcosa che nelle delizie nell'architettura moderna si sta utilizzando molto perché abbiamo vetrate sempre più grandi dove gli oscuramenti sono sempre più difficili in questo caso il progettista aveva fatto già un ottimo lavoro quelle superfici aggettanti e tutte le finestre difficili erano e non tutte protette e quindi ne siamo passati a parlare di come eliminare le barriere architettoniche ogni progettista sa che una barriera architettonica è qualsiasi diciamo scalino o elemento più alto di due centimetri e mezzo questa è una vecchia norma del 1989 infatti casualmente tra virgolette un po tutte le soglie ribassate sono alte due centimetri e mezzo e questo diciamo che è qualcosa che ci mette al riparo dal punto di vista burocratico formale però se qualcuno ha avuto la fortuna di poter parlare con chi effettivamente deve scalacare queste barriere magari su una carrozzina a rotelle gli avrà detto che è un ostacolo che non è di fatto così facile da oltrepassare ma può andare bene se è qualcosa di saltuario non in un'abitazione dove tutti i giorni devo fare avanti indietro con questo tipo di scalino perché poi è un po difficile da oltrepassare quindi dico a volte non bisogna nascondersi dietro un dito e dirà ma così non è barriera architettonica sì non è barriera architettonica per la burocrazia ma per una persona che vive in quell'abitazione invece è una situazione di disagio quindi se abbiamo deciso che le guide degli scorrevoli devono essere incassate all'interno del pavimento e non potevamo utilizzare una guida ribassata due centimetri e mezzo per abbassare i costi per fare un lavoro più semplice però c'è anche da dire questo che normalmente le guide degli scorrevoli hanno una due o tre guide e tra questi elementi ci sono degli spazi ci sono dei veri e propri solchi tra una guida e l'altra ci sono questi solchi che possono essere pericolosi magari per un bambino piccolo che ci cammina scalzo ma anche con qualcuno in carrozzina che magari inclinandosi traversalmente si possono incastrare le ruote della carrozzina questi solchi rendendo difficoltoso uscire da questa situazione per questo motivo abbiamo scelto delle guide zero level dove tutto l'elemento scorrevole era completamente a zero non esistevano questi comuni solchi dei quali ne avrete viste in tutta la vostra storia di sermentisti e rivenditori quando si parla di incassare delle guida pavimento bisogna concentrarsi come primo aspetto sul problema del deflusso dell'acqua piovana perché ripararsi dall'acqua è fondamentale un infisso di questo tipo infatti occorrerà fare delle predisposizioni molto molto specifiche saranno più semplici nel caso che esternamente ci sia un pavimento galleggiante perché in quel caso i due piani reali sono già sfalsati e quindi abbiamo lo spazio già di default per far defluire le acque piovane se invece i pavimenti sono lo stesso livello sono dello stesso materiale o magari di fuori c'è una soglia e marmi o granito bisognerà prevedere qualcosa che sia una sorta che in realtà si comporta come una sorta di gronda dove all'interno andrà inserita la guida e come ogni gronda andrà si riempirà di acqua e quindi come ogni gronda dovrà avere una sorta di pluviali diciamo così comunque degli scarichi per l'acqua che una volta che piove può scaricare tutta l'acqua senza avere nessun tipo di problemi questo e andrà bene nelle situazioni comunque normali dove l'infisso non è troppo esposto perché se abbiamo un infisso magari fronte mare magari a un'altezza elevata magari sopra senza cornicioni che quindi tutta la facciata e prende tantissima acqua tutta quest'acqua di lavaggio della facciata del vetro si concentrerà in quella zona e la predisposizione andrà troppo sotto stress a quel punto bisognerà dotare l'infisso di una caditoia per tutta la lunghezza che so che non sono amate dai progettisti non gli piace mettere questi elementi però questa caditoia permette di scaricare quest'acqua molto velocemente in modo che non entri dentro perché non dimentichiamoci che qualsiasi predisposizione se non ha abbastanza portata di acqua poi si alza a livello dell'acqua e quell'acqua va all'interno dell'abitazione e non è una situazione molto piacevole penso che ogni sermentista abbia provato questo un'infiltrazione di acqua e quindi sono situazioni difficili detto questo e le predisposizioni bisogna farla con dei materiali che non abbiano problemi con l'acqua quindi io consiglio ad esempio di utilizzare dell'acciaio inos che è un materiale perfetto per questo utilizzo però bisogna poi pensare al ponte termico lineare che viene si viene a creare e quindi si potrebbe interrompere questa sorta di U che di solito di quello si parla quando si fa una predisposizione per l'incasso della guida magari al centro si potrebbe mettere del materiale isolante come ad esempio della purinite che è un materiale che sta bene in quelle difficili condizioni di bagnato e umido nel caso del di questa questa casa a Rovigo eravamo fortunati perché sono tutte queste superfici aggettanti quindi di fatto i sermenti prendevano prendevano poca acqua è stato sufficiente creare e questa predisposizione in acciaio senza canalina di raccolta acqua frontale ma con un piccolo spazio di pochi centimetri e con le caditoie con con gli scarichi dell'acqua che andavano appunto scaricare nella rete fognaria la poca acqua che in realtà avrebbero preso e quindi ci siamo concentrati poi dopo a parlare di sicurezza che era un altro elemento importante io quando un cliente mi chiede di sicurezza anche se non faccio antifurti lo metto sempre al corrente che la sicurezza è sempre un connubio di sicurezza attiva insieme a sicurezza passiva sicurezza attiva con un sistema d'allarme che dovrebbe suonare il prima possibile quando il l'intruso magari mette piede già nel mio terreno e sicurezza passiva con un fisso che risponda ai requisiti antifrezione che magari servono in quella zona che renda più difficile il tentativo di scasso anche perché prima o poi qualsiasi fisso viene scassinato ma che sia idoneo magari per un centro abitato per una villa isolata o per anche le aspettative del cliente a volte è più il timore del cliente che la reale necessità in questo caso c'era già un ottimo sistema d'allarme quindi abbiamo predisposto abbiamo consigliato degli infissi in classe rc2 e comunque sono degli infissi dove tutto è in equilibrio quindi una ferramenta più robusta più punti di chiusura un vetro e p4 a che il vetro che serve per la classe rc2 è un vetro che venisse incollato con una speciale colla bicomponente sul perimetro dell'anta o del telaio fisso nel caso di un vetro fisso perché quando si vuole ottenere sicurezza serve un bilanciamento sia tra sicurezza attiva che passiva ma anche all'interno della sicurezza passiva stessa perché se installo dei vetri blindati e non metto delle chiusure di sicurezza non ho fatto niente se faccio le chiusure di sicurezza ma non metto una maniglia con la chiave magari si fa un foro nel vetro e si la maniglia eccetera 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 quindi bisogna curare e ogni aspetto che vada nella direzione della sicurezza poi a livello di design serviva un fisso minimale e un fisso di colore nero perché tutta la casa e ci giocava di questo gioco di colori tra bianco e il nero e un fisso nero ricordo che le fisso più problematico dal punto di vista termico perché si dilata di più si riscalda di più e più anche un problema magari di scolorimento nel tempo e poi servivano di vetri extra chiari poi serviva tutto quello che abbiamo detto prima a quel punto abbiamo consigliato al cliente di stare su un infisso in alluminio che rispondesse a tutte queste richieste tra le quali la zero level c'era un prodotto sciuco che aveva questo tipo di soglia era un prodotto che poteva essere certificato rc2 rc3 in questo caso era sufficiente la rc2 è un prodotto che si prestava anche ad essere realizzato con questo tipo di colore che è uno che sta è un colore che sta andando molto di moda ma è un colore che ha le sue complesse tale quale bisogna stare attenti nello specifico abbiamo scelto la serie case 80 hi nella declinazione design edition che prevedeva un montante centrale di soli 4 cm così anche il design raccontentato e poi abbiamo completato il tutto con degli elementi ad angolo con dei tagli di luce con dei vetri fissi con delle tipologie di infisso che andavano impreziosire tutto il progetto del quale ti lascio guardare le foto che all'interno del video all'interno dell'articolo pubblicato su guida finestra spero di averti dato qualche spunto per fare meglio il tuo lavoro ogni giorno e ti ricordo che un seramentista che ha il suo lavoro è un seramentista che non si nasconde dietro un dito dicendo guarda questa normativa io sono a posto con la legge sono a posto con il mondo ma che vada veramente incontro alle esigenze del cliente qualsiasi essenzione come in questo caso e delle barriere architettoriche a maggior ragione perché chi ha bisogno di questo tipo di esigenza è una persona che va aiutata ancora più delle altre ciao e al prossimo articolo